GARMINE SANGINETO Siamo a Campora San Giovanni per la sagra della cucina contadino organizzata dal locale Proloco Questa sera in compagnia dei tuoi allievi Salve a tutti, siamo a Campora San Giovanni per la quarta, la quinta volta siamo di casa qui a Campora Ci sono stato in varie formazioni diverse Questa sera sono in compagnia di due miei allievi Eugenio sulla mia sinistra e Giacomo Oleastro sulla mia destra Ebbene sì, ci stiamo sposando bene con questa sagra perché stiamo facendo rivivere le nostre tradizioni Con questo magnifico strumento che è l'organetto Domani sera saremo a San Severino Lucano quindi lasceremo solo per domani la Calabria Domani sera con la band intera Seguitemi sulla mia pagina per altre date E' il 22 a Papasidero, man mano pubblicherò tutte le altre E' il 22 a Papasidero, man mano pubblicherò tutte le altre